Ho fatto le ultime tre partite titolari, con Varese sono entrato dopo 20 minuti, mi sono sempre andato bene, sono stato a disposizione al mister, è arrivato il mio momento, sono dato il mio massimo, il mio contributo per vincere le partite, per prendere più punti possibili. Grazie al mister, grazie ai miei compagni, perché anche quando non ho giocato sono sempre stati vicini a me. Oggi è un momento che pensi possa continuare, tu stai dimostrando il fatto tu lì anche come centrale difensivo in una difesa a tre, pensi di poter giocare le tue carte e di restare ancora titolare? Io mi alleno ogni giorno, do il mio massimo sul campo e il mister sceglie dopo chi gioca. In questi anni probabilmente ti è sempre un po' mancato la fiducia, ti è arrivato con grandi credenziali, come una promessa del calcio serbo, ti è sempre un po' mancato la fiducia negli anni scorsi con gli allenatori del Paolo. Quest'anno pensi che con Giacchini possa cambiare qualcosa? Che cosa è cambiato da Giacchini per te e per la squadra? Sì, è mancato un po' di fiducia, ma io mi sono sempre manato, ho sempre stato con la testa giusta in campo, mai sono ammolato. E' arrivato il momento adesso quando il mister mi fa giocare titolare. Lui è troppo esperto per la Serie B, conosce tutte le squadre, tutti i giocatori. C'è differenza a lui e ex allenatore Gattuso. Io mi trovo bene con il mister, sono contento, penso di fare bene per la squadra e per la società e andare in Serie A quest'anno. Gatto Stadionius e poi Ciulla per TGS. Ciao Milano, hai parlato delle differenze tra Gattuso e Giacchini, cosa ha cambiato in particolare per te e anche per la squadra? Sicuro questo mister Giacchini è più esperto, più conosce Serie B e ha tanti anni che lavora e che fa questo mestiere. Gattuso è appena smesso di giocare calcio, sicuro lui sarà un grande allenatore tra qualche anno, ma per adesso Giacchini è un po' avanti. Danilo? Sì, finalmente. Come ho parlato di queste tre partite che tu hai giocato finora, d'altro non è arrivato nessun gol, se poi non ha subito nessun gol. Un pizzico di meriti quando ti riprendi pure tu in questo risultato, perché tre partite sono subiti. Ma poi vorrei dire che si parla spesso di questo tuo dualismo tattico con Terzi. In realtà potete giocare insieme? Vedete bene anche quello indipendente? Sì, sì, mi vedo bene con tutti i giocatori. Ho giocato insieme anche con Terzi, con Munoz, con Andelkic. Ci conosciamo bene. Non abbiamo preso gol quando io ho giocato tre partite, ma il merito è di tutta la squadra, non solo da me, perché tutti hanno fatto bene. Anche ultima partita abbiamo giocato molto bene, tutti i giocatori hanno impegnato benissimo. Faccio complimenti per tutta la squadra.